Bella a tutti quei Triface che vi parla ed oggi vediamo insieme come funzionano le evocazioni di Watering Waves e ci tengo a precisare che non sarà possibile effettuarle finché non saremo andati avanti nella storia come era stato detto all'interno del gioco era possibile selezionare un personaggio 5 stelle garantito all'interno delle nostre evocazioni Pity quindi vuol dire che una volta al raggiungimento delle 80 evocazioni di questo banner io riceverò il personaggio designato ma come si arriva a questo banner? per prima cosa sarà necessario evocare all'interno del banner 20% off quindi invece di 10 sfere evocazioni ne useremo solamente 8 vuol dire che una volta raggiunto il personaggio 5 stelle questo banner cambierà con la possibilità di selezionare il personaggio designato infatti ci apparirà un nuovo banner con la possibilità di cliccare queste freccettine e selezionare quindi il personaggio che più ci piace ovviamente io quello che consiglio è Calcaro esisterà anche un banner selettivo per quanto riguarda le armi infatti ricliccando le freccettine sarà possibile selezionare l'arma che più ci piace state attenti a non utilizzare la strita per i banner selettivi piuttosto teneteli da parte per poter evocare quegli evento come sempre io vi ringrazio per la visione ci becchiamo alla prossima ciao a tutti